Quando il personaggio principale viene inquadrato da lontano, vediamo che la piuma è già appoggiata vicino alla sua scarpa, nonostante stia ancora volando nell'aria. Quante scarpe che ho messo io? Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo paio. Mamma disse che quelle mi portavano... Ah, le sue prime scarpe Forrest le ha ottenute prima di andare a scuola, quindi in tutti gli anni precedenti camminava a piedi nudi. Prima di girare un film bisogna pulire con maggiore attenzione la lente della cinepresa, proprio per non far rimanere queste macchie antiestetiche. Credo che non sia stata una buona idea riprendere i segni lasciati dagli pneumatici delle auto su una strada del XIX secolo. Le grate sono state divaricate in modo tale che ci potesse passare lo stivale di Forrest, mentre quest'auto alle sue spalle passa due volte di fila all'inizio e alla fine della scena. Ma prima di continuare con il video, ti chiedo di spendere due secondi del tuo tempo per mettere il video in pausa, lasciare un mi piace qui sotto e iscriverti al canale. In questo modo supporterai il mio impegno e non perderai nessun prossimo video del tuo film preferito. Ti ringrazio in anticipo. La camminata di Forrest è alquanto strana. In alcune riprese ci mostrano che le protesi delle gambe sono rigide e non gli permettono di piegare le ginocchia, costringendolo a spostarsi in questo modo strano. Ma intanto in altre scene vediamo che le protesi di Forrest si piegano senza problemi nel momento in cui si siede, balla o corre insieme alla sua amica. Qui la posizione delle mani cambia dopo il taglio di ripresa. Forrest invece di fissare il suo riflesso guarda quello della cinepresa. Il brano Hum the Dog è stato scritto da Elvis nel 56, ma dato che serve per la trama del film lo canta senza problemi già nel 51. La mano della tizia è poggiata sul cambio, poi sulla leva della porta e poi di nuovo sul cambio. Perché i bambini dicono che è occupato anche quando non c'è nemmeno lo spazio sui loro sedili. E ovviamente Forrest ha girato tutto l'autobus cercando un posto dove sedersi, ignorando completamente l'unico libero dove la bambina non gli ha detto nulla. La ragazza dietro Jenny si trova a un metro di distanza dal finestrino. Poco dopo è già attaccata a esso. Clicchè dell'eroe principale che viene preso di mira dai buli della scuola non poteva di certo mancare in un film americano. Aspetta, stanno seriamente lanciando delle pietre in testa e negli occhi di Forrest e questo non lo accusa minimamente. Che poi la pietra l'ha colpito dritto nell'occhio. Il sangue invece gli esce dalla zona dei capelli. Il libro rosso atterra vicino a Jenny scompare in mezzo alle inquadrature. E ovviamente fallo senza spostarti dalla strada in modo che i ragazzini possano raggiungerti senza problemi. Come in ogni film, i nemici si muovono 3-4 volte più veloci dell'eroe principale, ma in tutto ciò non riescono a raggiungerlo in alcun modo. Cioè un bambino invalido doveva essere raggiunto dalle biciclette nel giro di 10 secondi massimo. A quanto pare le protesi di ferro sono state fissate con della colla mischiata all'acqua. Che poi ci hanno già mostrato la scena in cui Forrest correva e le protesi non si rompevano affatto. Qui invece si spaccano in pezzi minuscoli giusto perché l'ha voluto il regista. Togliere le protesi alias correre alla velocità delle auto sportive. Questo contando che nella vita reale, nel momento in cui vengono tolte le protesi, i muscoli delle gambe si atrofizzano a tal punto che le persone per un po' di tempo non sono nemmeno in grado di reggersi in piedi. Altro che battere il record di velocità di Usain Bolt. Alla destra della casa dei geni c'è questa stalla nera. Dopo ci mostrano che i bambini scappano nei campi dietro casa e quindi la stalla ora sta a sinistra. Ma nel momento in cui iniziano a pregare, la stalla si trova di nuovo dalla parte destra. Luce lunare alias un potentissimo proiettore di luce artificiale piazzato un metro dalla casa. Adesso gli stessi buli di prima hanno deciso di investirlo con l'auto e ucciderlo definitivamente senza alcun motivo logico. Non sapevo che negli anni 60 in Alabama si portasse a uccidere la gente allo scopo di divertimento. Qui l'auto si trova a un metro di distanza da Forrest. Subito dopo si allontana di 10 metri e infine Forrest si allontana di altri 30 metri nel bel mezzo della ripresa. Vi ricordo che il film ha ottenuto l'Oscar per miglior montaggio. Se Forrest sta correndo per tutto il campo, questi tizi non dovrebbero seguirlo con lo sguardo invece di guardare in un punto fisso. Il quaderno cade sulle lastre di cemento e all'ombra. Un attimo dopo si teletrasporta su queste matonelle illuminate dal sole. L'ombra della ragazza si trova ancora vicino all'autobus e notiamo benissimo che questo parte senza di lei. La bretella del reggisino di Jenny torna nella posizione normale senza essere toccata. Ma la prima selezione universitaria americana del football avviene nel dicembre del 1963, quando ormai John Kennedy dovrebbe trovarsi nella bara. È fisicamente impossibile che una persona possa bere così tanto liquido. Il presidente indossa una cravatta chiara, la quale durante il cambio di ripresa diventa scura. Ed ecco che di nuovo si ripete la scena iniziale in cui tutti quanti tranne una sola persona odiano Forrest senza alcun motivo. E mentre da piccolo ciò poteva essere spiegato dalla presenza delle protesi sulle sue gambe, ora non si spiega minimamente perché un ragazzo semplice e apparentemente simpatico venga trattato con così tanto disprezzo. E non appena decido di farlo, la prima auto che fermerò mi darà subito il passaggio. L'attore che interpreta Booba nella scena dell'aereo a quanto pare dimentica di avere il labbro inferiore sporgente. Nel 1967 notiamo le lattine di birra della Budweiser, provenienti direttamente dagli anni 90, cioè il periodo in cui il film è stato effettivamente girato. Sai, dopo che avremo vinto la guerra e ci saremo presi tutto, possiamo chiamare i... I due si teletrasportano in un altro posto nel bel mezzo del discorso. I tunnel venivano controllati dai soldati piccoli e minuti, non da quelli alti fisicamente piazzati come Gump. E poi, tutto un tratto, qualcuno chiusi il rubinetto della pioggia e uscì il sole. La pioggia è cessata dopo quattro mesi, ma intanto il suolo è già completamente asciutto come se non vedesse una goccia d'acqua da varie settimane. Il salvataggio dell'eroe principale a un pelo della morte è presente anche qui. Il codice postale dell'indirizzo di Jenny cambia in continuazione sulle lettere, nonostante la strada e la città rimangono le stesse. Mi hanno detto che sei stato ferito. Dove ti hanno colpito? Nel posteriore, signore. Sarai curioso di vederlo. Il presidente è curioso di vedere il sedere ferito di un soldato. Non saprei chi dei due è mentalmente messo peggio. Per televisione ci hanno detto che la medaglia verrà conferita a quattro soldati. Un'ulteriore intensificazione della guerra indietnata. Il presidente Johnson ha conferito quattro medaglie d'onore a uomini di ciascuna delle forze armate. In questa scena invece la ricevono quattro tizi più Forrest. E i classici occhiali fasuli con del vetro trasparente. Un saluto da Harry Potter. Gli organizzatori dell'evento non ci pensano minimamente di controllare l'apparecchiatura elettronica dei microfoni e lasciano avvicinarsi qualsiasi loro nemico. Le persone si spostano per creare il campo visivo alla cinepresa. Un attimo dopo non c'è nulla di simile. Il cartello dietro ai due scompare nel bel mezzo della scena. Forrest io non la posso accettare. L'ho avuta solo facendo quello che mi hai detto di fare. Una scena molto romantica ma priva di senso. Dato che lei gli disse di fare esattamente l'opposto di quello che è effettivamente fatto. Mi devi promettere una cosa, d'accordo? Se ti trovi nei guai non cercare di fare il coraggioso ma corri, hai capito? Pensa solo a correre. La medaglia di Forrest cambia di posizione senza essere toccata. Io giocavo solo a ping pong. Quando tornai a casa ero diventato una celebrità, più famosissimo anche di Pinocchio. Perché senza dubbio i campioni di ping pong diventano persone più famose sulla terra. Sono sicuro che ognuno di voi conosca gli ultimi campioni del nostro decennio. Il tenente Dan scivola su questa rampa coperta di neve, nonostante fino a un secondo fa fosse perfettamente pulita. Forrest alza la gamba a sinistra per poi poggiare a quella a destra. E se la barca era diretta verso sinistra, come mai dopo qualche minuto compie il giro completo e torna alle spalle di Forrest? Questa lattina dell'ommello a ielo verrà prodotta come minimo tra qualche decina di anni rispetto a quello dell'ambientazione del film. Anche durante il temporale, la luce lunare sarà talmente forte da illuminare completamente la barca in mezzo all'oceano. I gamberi appena pescati dovrebbero essere di colore rosa e muoversi ancora. Quelli che vediamo in questa scena sono palesemente morti e comprati al mercato qualche ora prima. L'acqua dell'oceano mostrata durante questa ripresa è perfettamente piatta e calma. Un attimo dopo è mossa. Questo logo della Apple comparve solamente verso gli anni 80. Negli anni 70 veniva utilizzato questo logo qui. Ed è vero che l'azienda fu fondata nel 1976, ma la prima offerta delle sue azionali fu lanciata per la prima volta solamente nel dicembre del 1980. Infine troviamo un errore abbastanza grave. Come ho appena accennato, l'azienda è stata fondata nel 1976. Sulla lettera invece vediamo la data settembre 1975, quindi sei mesi prima dell'effettiva fondazione. La famiglia di Booba non fa altro che guardare dritto nella cinepresa per tutta la durata della scena. Jenny abbraccia Gump con la mano destra. Durante il cambio di inquadratura lo fa con entrambe le braccia. Mentre nella scena davanti alla casa del padre, l'erba sulla strada viene tagliata stesso durante la ripresa. Alla fine degli anni 70, la statua della libertà stringeva una torcia completamente diversa da quella inquadrata nella TV, cioè quella moderna che viene piazzata solamente nel 1984, nell'occasione del centesimo anniversario. Per la quarta volta nel suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Grimbo in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi. Forrest Gump, un giardiniere di Alabama. I giornalisti come minimo avrebbero dovuto dire Forrest Gump il fondatore della famosa Bubba Gump Corporation, altro che chiamarlo un semplice giardiniere. E i titoli dei giornali dovevano iniziare con «Miliardario impazzito, corre senza motivo». In realtà, quello Smiley è nato nel 1962 a New York. In questa scena, Forrest si trova all'ombra, un attimo dopo illuminato dal sole, e poi di nuovo all'ombra. Il ferro da siro dietro le spalle di Jenny cambia di posizione senza essere toccato. Ciò succede anche alle persone dietro le spalle dei due. «Sono malata. Ho una specie di virus. E i dottori non... loro non sanno che cos'è, non c'è niente che possono fare». A quanto pare, i produttori del film non sanno che aspetto abbiano le persone che si trovano qualche giorno dalla morte per l'AIDS. Sicuramente non sono pieni di vita come Jenny. «Sei morta un sabato mattina». Il 22 marzo del 1982 era lunedì. Il 22 marzo delmagacicino non sanno che attacco un puntoなんだ. Il 22 marzo del hogario. Il 22 marzo del urable.